Impediva l'adozione dei cagnolini ricoverati nel suo canile, lucrando centinaia di migliaia di euro per spese veterinarie, accudimento degli animali e altro. A smascherare la vicenda, la squadra mobile della questura di Pordenone, che ispezionando il canile di Villotta di Chions, sito in comune di Valvasone Arzene e il reparto di ricovero e custodia della clinica, ha scoperto che gli animali a quattro zampe ricoverati non erano sottoposti alle procedure di riabilitazione previste e che spesso venivano trasferiti dalla struttura direttamente all'abitazione della proprietaria del canile, sottraendole così a qualsiasi possibilità di adozione, oltre che a violare le normative sanitarie regionali. Nei guai la responsabile del ricovero, una donna di 70 anni di Arzene, che così facendo avrebbe lucrato centinaia di migliaia di euro, truffando 58 comuni convenzionati tra Friuli, Venezia, Giulia e Veneto, oltre che a sottrarre almeno 400 cani all'adozione. L'indagata, da una prima ricostruzione, agiva sempre con il medesimo modus operandi, riuscendo a sfruttare la presenza di un altissimo numero di animali ricoverati, incamerando un ingente guadagno illecito che otteneva fatturando ai comuni costose spese veterinarie e l'acquisto di farmaci. La donna è accusata di concorso in truffa ai danni dello Stato e peculato. Durante le operazioni, gli agenti sono stati coadiovati da otto veterinari. Nella struttura, oltre alle bestiole tutte dotate di microchip, sono state trovate centinaia di confezioni di medicinali veterinari scaduti, elemento che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi.